Novità per i centri vaccinali e il centro di accoglienza degli ucraini alla Asle di Pescara. A partire da ieri infatti chiuse le sedi di Palazzo Fuxas e l'ex stazione di Pescara Porta Nuova, in trame le attività sono svolte nella struttura dell'ex supermercato Lidl, situata tra Via Colle Renazzo e Via Tirino. Non solo le vaccinazioni, anche i tamponi e l'identificazione dei cittadini ucraini e le dosi per i più piccoli. Struttura allestita in tempo di record, messa a disposizione dei cittadini, aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 13. Il responsabile della campagna vaccinale Asle di Pescara, Rossano Di Luzio. Facciamo sia assistenza ai profughi dell'Ucraina, sia alle vaccinazioni per la popolazione italiana e per gli ucraini e poi abbiamo anche, rimaniamo aperti ancora per il mese di maggio, all'outlet di Città San D'Angelo, il martedì e il venerdì e un paio di volte durante questo mese di maggio sia a Scafa che a Penne. Il flusso di ucraini va scemando oppure c'è un arrivo continuo? No, c'è una riduzione, c'è una riduzione di questi profughi. Le chiedo, vaccinazioni a che punto siamo? Le vaccinazioni continuano, adesso stiamo iniziando, abbiamo iniziato oramai da un paio di settimane a fare le quarte dosi che sono rivolte agli ultraottantenni e alle persone tra i 60 e gli 80 anni che hanno delle fragilità importanti, cioè patologie gravi. Quindi lei consiglia a queste persone la quarta dose? Sì, se queste persone non hanno avuto il Covid in questo periodo consiglio di fare la quarta dose. Ecco, lei ha detto che non hanno avuto il Covid, è vero che però abbiamo visto che si sono registrati diversi casi di Covid ultimamente, perché secondo lei? Ma perché probabilmente c'è stato un allentamento delle precauzioni, le persone pensano di essere uscite ma non si esce per un dato di legge, perché finisce la norma di emergenziale, ma bisogna continuare a tenere le mascherine, specialmente nei luoghi affollati, nei luoghi chiusi e rispettare quelle prescrizioni come il lavaggio delle mani e altre che abbiamo sempre tenuto conto fino adesso. In autunno potrebbe arrivare un vaccino, si dice addirittura contro alcune varianti? Sì, sembra che queste ditte, queste aziende farmaceutiche stiano preparando dei nuovi vaccini che speriamo ad ottobre possano coprire anche le varianti. Insomma, sarà come un vaccino antinfluenzale? Probabilmente sì, saremo costretti a fare questo vaccino ogni anno per i prossimi anni. Per quanto riguarda l'andamento dei dati Covid? Mi aspetto che verso la metà di maggio ci sia una netta riduzione, sperando anche nel bel tempo così.